I tratti distintivi di Federico Fellini prendono forma e movimento attraverso un film d'animazione e soprattutto attraverso la danza, questo elemento di congiunzione che si fonde attraverso un esperimento davvero ben riuscito. Monica Casadei. Sì, lo spettacolo è il nostro omaggio a Federico Fellini ed è uno spettacolo che sta girando il mondo, ha fatto tutti i continenti dal Brasile all'India all'Indonesia al Giappone ed è un po' lo spettacolo per me, il primissimo omaggio a un grandissimo maestro ed è un po' autobiografico nel senso che tutta la mia infanzia l'ho passata con un nipote di Giulietta Masina e quindi andavamo al circo sempre, il mio primo circo l'ho visto con Giulietta Masina.